Tre i soggetti finiti in manette nella piana di Gioia Taur, accusati dei reati di ricettazione, riciclaggio e furto aggravato, si tratta di Ferdinando Circosta, 29 anni di Rosarno, di Antonio Bevilacqua, 44 anni, sempre di Rosarno, e di Michele Raso, 32 anni, di Polistena. Gli arresti sono stati eseguiti dai militari della compagnia carabinieri di Taurianova, i quali nella giornata di oggi hanno fermato i tre marioli. Raso e Circosta sono stati sottoposti agli arresti domiciliari mentre Bevilacqua è stato assoggettato all'obbligo di dimora il provvedimento cautelare, conclude un'attività investigativa svolta dalla stazione carabinieri di Polistena e avviata a seguito del rinvenimento all'interno di un'officina della cittadina gestita da Raso e Circosta di una Fiat Panda rubata poche ore prima a Pizzo Calabro nella provincia di Vibo, Valencia. Al momento del controllo alcune parti dell'autovettura risultavano già manomesse con il chiaro intento di impedirne la riconducibilità al furto. Successivamente stesa due rimesse nella disponibilità di Raso e Circosta, la prequisizione ha consentito di trovare numerose parti meccaniche e componenti di autovetture di provenienza incerta, nonché un altro veicolo che i due hanno giustificato come precedenti acquisti non documentati. Dopo questo primo intervento, cui è seguita la restituzione dell'auto e legittimi proprietari, i militari di Taurianova hanno svolto una meticolosa attività investigativa che attraverso analisi tecniche, accertamenti e riscontri investigativi ha consentito di dimostrare come parte del materiale rinvenuto costituisse provento di precedenti furti. Nel suo complesso l'indagine ha appurato come Raso e Circosta, approfittando della loro attività professionale, abbiano stabilmente acquistato o comunque ricevuto autovetture rubate per poi asportare i componenti di interesse modificando i numeri e i codici identificativi per ostacolare l'identificazione della provenienza illecita e disporre di materiale e componenti di auto da rimettere sul mercato delle vendite e delle riparazioni. L'officina dopo il controllo è stata chiusa, Raso e Circosta, considerati gli organizzatori del sistema, risponderanno dei reati di ricettazione e riciclaggio, mentre Bevilacqua è accusato del solo reato di furto aggravato.